certo che tra ieri e oggi le cazzate come fioccano eh le cazzate come fioccano e mo ve dico pure il perché intanto vi auguro una buona domenica a tutti e faccio gli auguri di buona festa della mamma a tutti voi ragazzi a tutti voi che mi seguite auguri a tutte le vostre mamme a tutte quante le vostre mamme perché dico le cazzate come fioccano da ieri perché la prima cazzata che vai a sentire che vado a leggere e poi la interpreto come la cazzata qual è? è quella di Guardiola che col Manchester City che spende 4 miliardi d'euro su un mercato da quando è arrivato non riesce a portare a casa una Champions League che è una Champions League che è giustamente frustrato frustrato da questa situazione probabilmente perché diciamo nutre e soffre questa competizione con Murigno perché è una competizione con Murigno che cosa succede? se ne esce eh ma pure a Roma spende spende non sta manco un Champions ho capito amico mio ma tu già che metti a paragoni i tuoi progetti no del Manchester City dello sceicco e dei frecchino della Roma sono due pianeti diversi sono due situazioni diverse che non possono avere nessun affronto non c'è nessun affronto a te ne hanno speso 2 miliardi e mezzo d'euro sul mercato con prezzivi di ingaggi la Roma si è non ha speso quasi 100 in un mercato solo ma sono 100 milioni non ho due miliardi e mezzo ma sono privato proprio due progetti diversi e mi fai capire con questa esternazione come sei te dico frustrato sì perché non riesci a portare a casa sta Champions nonostante c'è una squadra dei marziali e che nutri sempre capito questo testa a testa nutri diciamo soffri questo testa a testa con Murigno io a Peppe gli voglio bene io a Peppe come allenatore mi è sempre piaciuto ma con questa esternazione ha cagato fuori proprio dal vaso totalmente dal vaso perché ha fatto un paragone inutile la dimensione della Roma con la dimensione del Manchester City che non c'entrano proprio un cazzo e stanno lontano a di luci oggi non contenti vado avanti riapro la mia solida applicazione per leggere le ultime e intervistano il mister del Bodo Klimt che dice sì a Roma è una squadra che se segna e poi si chiude tutta indietro ma non mi sembra che all'Olimpico quando abbiamo dato quattro mazza in colla e abbiamo tirato il freno a mano e abbiamo segnato se siamo messi tutti dietro una volta che abbiamo deciso realmente di voler giocare a pallone con voi avendo una squadra in completo avemo dato un partito abbiamo dato una lezione di garcia e abbiamo rispedito Norvegia con gli sarmoni e poi se ne esce è ovviamente in finale ti ferò per il Feyenoord e sti cazzi e sti cazzi che ti ferò il Feyenoord tanto cosa hai chiesto tanto cosa hai detto ma non ci pensi e sti cazzi che ti ferò il Feyenoord di sicuro potevi rifà tutte le squadre che sarebbero potute capità e le avresti rifate tutte tranne a Roma che era un Feyenoord d'orasta tu avresti rifato tutte tranne a Roma perché stai ancora rosicata stai stai ancora rosicata perché ripeto una volta che abbiamo deciso di giocare a pallone di giocare a pallone con la squadra al completo ti abbiamo fatto un bucio d'oculo come in secchiello e ti abbiamo rimanato a cogliere i sarmoni tristi a te e tutta la tua squadra mamma mia ragazzi una guardiola quest'arte tecnico del bolo ma quanti fegati stanno quanti fegati spappolati ma io amo amo e apprezzo veramente le tante persone sportive che mi scrive che mi hanno scritto mi scrivano ancora che supporteranno la Roma infia veramente qualcosa di eccezionale perché stanno riconoscono la mia sportività sono altrettanto sportivi a questo a me piace come mi piace al contempo tutti quelli che mi vengano a scrivere per insultarmi ma quanto osso vi dovete mangiare ma quanti fegati spappolati vedo da rosicamento quanti ce ne sanno siamo al completo per me panno di quello che vogliono coppa del nonno coppa del merda coppa bonsai coppa è sempre una finale europea che io vado a giocare insieme alla nostra Roma andiamo a giocare insieme alla nostra Roma e c'è chissà guarderà di tutti sti figli spappolati seduti sul divano in cufa ma c'è chi le gioca e c'è chi se e che c'è chi se metta a sedere guarda perché ti fai un'altra squadra ma va bene così ripeto va bene così oh Atalanta ha vinto ed è venuta ed è tornata a pari punti che è Roma la Lazio ieri ha vinto e adesso sta più tre sulla Roma domani c'è Fiorentina Roma basta con ste cazzate tutte sulle conferenze ha detto pure Murigno per preparare bene la finale del 25 devi arrivarci nel migliore dei modi passando per il campionato e per cercare di comunque sia ottimizzare migliorare una posizione in classifica rispetto all'anno precedente quindi domani andiamo a giocare a questa partita cerchiamo di chiudere bene questo campionato per arrivare al meglio mentalmente fisicamente proprio alla partita del 25 perché la mentalità vuole impone come la dice Murigno che devi essere competitivo in tutte le competizioni per quei giochi e devi dare sempre tutto per cercare di portare il massimo a casa quindi cominciamo da domani e andiamo a giocare a questa partita che è la Fiorentina perché tutto tranne che è semplice arriveremo stanchi non staremo al cento per cento dei fisico ma da destra stiamo a cannone perché una vittoria ma soprattutto una qualificazione finale come quella che c'è stata con l'estero in casa nostra giovedì a livello mentale te porta tanto quindi levamola sta mentalità sti cazzi e il campionato tutto sulla conferenza continuiamo a far bene il campionato continuiamo a cercatevole e chiude bene sto campionato per preparare a star meglio poi per 25 quindi testa a domani testa a domani e nonostante tutto andiamo a giocare a questa partita difficile contro una bella squadra di Vincenzo Italia contro la Fiorentina che è una bella squadra allenata da un bel allenatore come Vincenzo Italia se siete in accordi con il sottoscritto lasciate sempre un bel pollicione e se lasciate in commentiva mi fa piacere perché dite la vostra e io vi leggo sempre tutti e le parole che ha rilasciato ieri Sarri nel post partita del Lazio Sampa non so sbagliare le pensa anche Murigno soprattutto anche Murigno e va da vari passo col pensiero di Sarri va bene la rivalità va bene nel derby bello tutto ma non è la cara che arriva prima sopra quasi perché nel calcio conta quello che vinci sul campo conta nei trofei contano gli obiettivi che te porti a casa quindi non hanno non ha detto una cosa sbagliata perché oltretutto la pensa dei pari passo pure Murigno ripeto va bene la rivalità cittadina la supremaccia cittadina tutto quello che volete è piacevole anche finire sopra l'uno all'altro ma quello che conta nel calcio sono altre cose gli obiettivi che ti porti a casa compresi gli stessi trofei e con questo ho concluso buona domenica ancora e sempre sempre forza grande Roma